Visual thinking, ovvero rappresentare le idee con disegni, immagini, invece che parole o testo. L'ispirazione arriva da questo libro di Dan Roham che si intitola The Back of the Napkin e su quale leggo risolvere problemi e vendere idee attraverso le immagini. Ora non necessariamente vendere magari le idee ma comunicare dei messaggi attraverso le immagini è l'argomento che voglio trattare adesso. Il visual thinking è estremamente complesso, nel libro ci sono tante cose tutte molto interessanti, oggi però non abbiamo il tempo e magari non sono la persona più indicata per farlo, per coprire tutto ovviamente. Voglio solo darvi un assaggio di che cos'è, perché molto spesso è il modo più efficace di comunicare e di trasmettere informazioni al pubblico in maniera visuale e quindi l'obiettivo di questa cosa è che